Good morning Juventus. Domani finalmente ci sarà la sfida tra Juventus e Napoli al Diego Maradona e ovviamente la sfida ancora più accattivante fra Allegri e Spalletti. Due modi differenti di immaginare, vedere, pensare il calcio. Spalletti organizzato con tatticismi, tecnicismi, giocatori nei ruoli specifici, movimento senza palla, insomma tutta una serie di cose che fanno bello il calcio. Dall'altra parte un allenatore che sostiene che il calcio, come ho detto anche nel primo Good morning di questa settimana, è una cosa semplice, che non c'è bisogno di tatticismi, che non c'è bisogno di tecnica, di tattica, di posizioni dei giocatori, ma la cosa più importante è non prendere gol e buttarla dentro. Ergo, mentre Spalletti pensa al gioco, Allegri pensa alle giocate, alle giocate dei suoi giocatori. Ora, da questo punto di vista, quindi diventa fondamentale per noi juventini, per la Juventus in generale, avere la rosa più diciamo completa possibile, perché se ti vengono a mancare giocatori di grande qualità, come Chiesa, come Di Maria, come Paredes se sta bene, come Bremer, come altri giocatori della rosa appunto presenti nella Juventus, lo stesso Rabiot che sta giocando molto bene, ovviamente la Juventus parte svantaggiata, perché se come dicevo prima Spalletti punta sul gioco, chiunque è in campo nel Napoli può essere pericoloso per la Juve, mentre viceversa chiunque è in campo per la Juve non è pericoloso, perché se dovessimo mettere in campo una formazione con i Rugani, con i De Sciglio, con i McKennie, con i Locatelli, con i Ken, con il Quadrado ormai al Via del Tramonto, con i Bonucci ormai obsoleto, io credo che la Juventus farebbe molta fatica a portare a casa anche un pareggio dal Maradona. È una sfida che si giocherà proprio affascinante per questo, perché se tu metti a confronto due allenatori che hanno le stesse idee di gioco, spesso si annullano e spesso è una giocata particolare, magari un errore grave della difesa che prende il gol, che fa vincere la partita della squadra avversaria. Qui invece è tutta un'altra cosa, perché qui abbiamo una squadra che sicuramente, il Napoli, ci metteva sotto pressione cercando di attaccarci, spinta dal pubblico appunto dello stadio. Loro sentono tantissimo questa partita anche perché sanno benissimo che se vincono ci tengono a grande distanza e tenere a quasi fine del giro in andata la Juventus a 10 punti vorrebbe dire per il Napoli avere bonus di tre partite perse e un pareggio. Mentre la Juve sarebbe costretta a vincerle tutte. Insomma, una sfida affascinante, lo devo dire subito. Perché? Perché io non sono un stimatore di Allegri, lo rispetto perché è allenatore della Juventus e in quanto tale io non posso non rispettare chi porta i nostri colori. Ma non è che mi faccia impazzire, non l'ho mai nascosto. Io non sono un anti-allegriano, l'ho sempre detto sia a Top Planet, l'ho detto anche a Top Calcio, l'ho detto anche alla trasmissione pallonate, perché molti mi definiscono anti-allegriano. No, no, non lo sono anti-allegriano. Io sono un fautore del bel calcio, un fautore del bel gioco. È pur vero che però Spalletti, che è un fautore del bel gioco, del bel calcio, manca in personalità, manca diciamo in quella che viene chiamata proprio dagli amici napoletani, la cazzimma. Perché appena la squadra comincia a barcollare, lui vacilla e cade. Cosa che invece Allegri sembra un paperottolo nello stagno sguazzare nei problemi. Più problemi ha e più lui tira fuori il suo carattere, che quello non gli manca ovviamente. Poi essendo del signore del leone, chiede il signore del leone, ha un'autostima forse fin troppo esagerata di se stesso. Io ne ho conosciuti abbastanza di questo segno, erano tutti un po' dei, diciamo così, dei presuntuosetti, un po' come il nostro tecnico. Quindi, quindi, non me ne vogliono i leoni, sia chiaro, perché ogni segno di pro e di contro ci mancherebbe. Quindi domani noi, domani sera, assisteremo a una partita che ci darà sicuramente adrenalina e emozioni. Non credo che guarderemo se la Juve gioca bene o se la Juve gioca male. Noi guarderemo e porteremo il pathos, la tensione, fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo secondo della partita, perché a mio modo di vedere la Juve ha una rosa superiore al Napoli, ma Napoli ha un gioco connettamente supererò la Juventus. Quindi, cari amici, salutandovi, perché domani qua a Parma è festa e quindi non ci sarà il Good Morning Juventus. Me ne sto a nanna, fino a, insomma, non è che io dormo molto, però domani mattina magari fino alle sette e mezza otto me ne sto a nanna, quindi non c'è bisogno, non posso fare il Good Morning. Il patrono di Parma, Sant'Ilario, per chi non lo sapesse. Quindi, signori, vincerà il gioco di Spalletti e della sua squadra o vinceranno le giocate dei singoli messi in campo da Massimiliano Allegri? Ditemelo qua sotto. Ci tengo, voglio saperlo. Voglio leggere tutti i vostri commenti. Domani mi metto lì, appena mi sveglio, mentre faccio colazione, e mi leggo tutti i vostri commenti su questa partita, perché sono curioso di vedere cosa ne pensate. Comunque, una cosa è certa. Domani avremo le risposte di quante possibilità avrà la Juventus di lottare barra vincere lo scudetto, io credo, perché perdendo, penso che le percentuali si abbassarebbero notevolmente. Incrociamo le dita. Good Morning Juventus. Grazie a tutti. Grazie.